Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno seguito 20 fermi di indiziato di delitto emanati dalla procura distrettuale antimafia di questo capoluogo a carico di altrettante persone della famiglia mafiosa di Borcovecchio. Si tratta del mandamento di Porta Nuova nel pieno centro della città. Si tratta di attività classiche di controllo del territorio, controllo mafioso del territorio che vanno dalle estorsioni al traffico di stupefacenti, al sostegno delle persone detenute. Addirittura con forme di mediazione sulle tifoserie calcistiche e sul controllo delle feste rionali. Vorremmo ringraziare i carabinieri di Palermo quegli imprenditori che si sono fidati di noi. Molti, molti sono venuti spontaneamente a denunciare i fatti. Ci hanno messo la faccia e noi li abbiamo tutelati. E questo è il messaggio che vogliamo dare alla città di Palermo e a questa collettività. Basta al pizzo. Grazie a voi imprenditori che vi siete fidati dell'arma. Grazie ad associazioni antiracket che ci hanno collaborato. Noi siamo a fianco di chi denuncia.